Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono sempre Fabrizio e quest'oggi non vi voglio raccontare nulla voglio soltanto condividere con voi una mia perplessità, una mia curiosità sono andato a guardare le statistiche del canale SimDrivers e perché come avete potuto notare e l'ho notato anch'io il fatto di essere molto attivo sul canale viene a sollecitare l'algoritmo di YouTube e di conseguenza voi siete molto presenti e questo mi fa non piacere di più oltretutto penso di aver realizzato un pochettino il livello della qualità dei video e questo ovviamente è apprezzato, si vede anche gli iscritti stanno tornando a quella frequenza che si era perso in questi anni ovviamente mea culpa ragazzi perché la vita ha fatto sì che in quest'ultimo periodo non ho potuto dedicare tanto tempo però c'è una curiosità che qui solo voi mi potete togliere ragazzi quali sono gli argomenti che vi interessano di più? perché se guardo i video sono molto altalenanti quindi mi piacerebbe sapere da voi ragazzi ma quali sono gli argomenti che vi interessano così tanto? cioè perché siete iscritti a SimDrivers e per quali sono gli argomenti che vi hanno colpito e che vi danno questa voglia di tornare a vedere questo faccione che vi parla davanti a una telecamera a spiegarvi delle cose sul SimRacing cioè c'è un argomento in particolare mi piacerebbe fare una specie di video on demand in cui mettiamo un tag che ne so ci inventiamo un tag per ogni video così potete identificarlo ogni volta dire ah questa è una domanda del pubblico ad esempio e fare un video dedicato in base ai vostri interessi perché io continuerò sempre con la mia vita cioè io continuerò sempre con il mio programma che io mi alzo la mattina voglio parlare di questo e farò il mio video però mi piacerebbe avere questa iterazione più importante con voi voi i miei amici che mi seguite appassionati di simulazione creare ancora un legame più intenso tra di noi sembro filosofico e sentimentale ma in realtà secondo me è qualcosa di molto utile ad esempio fai più shorts parlando di che ne so pilloli di news che ne so di momenti di gara particolari oppure parlaci di setup strategia di gara la parte psicologica della gara l'hardware oppure le notizie come l'altra volta ragazzi date sfogo alla vostra fantasia e soprattutto a quelli che sono i vostri interessi date fuoco alle tastiere così creiamo questa cosa tra di noi di questo video on demand della comunità e secondo me arricchiremo il canale con degli argomenti che sono probabilmente più vicini a quelle che sono le esigenze di chi fa simulazione di guida gli argomenti possono essere svariati ragazzi fai un test di questa macchina con questa fai un confronto a questo simulatore con quest'altro confrontami l'audio di questo con questo voglio vedere questo potete fare quello che volete ragazzi ovviamente selezionerò quelli che sono più interessanti cioè quelli che attirano la mia attenzione ovviamente la mia curiosità e quelli che rientrano nelle mie competenze ragazzi non posso andare oltre a quello che non so non posso inventarmi delle cose perché se mi chiedete di dettagliare la formula dell'energia e uguale a mc2 magari non riesco a farlo quindi rimaniamo sempre in un ambito costruttivo e che sia io capace di poterne discutere ovviamente io cercherò di prepararmi il più possibile per dare un video il più esaustivo possibile alle vostre richieste grazie al mio carissimo amico Aulo che mi ha suggerito questo video come al solito ragazzi se questa iniziativa è piaciuta pollice in su se non vi è piaciuta non commentate iscrivetevi al canale tanto è gratuito attivate la campanellina da Fabrizio è tutto un abbraccio ciao ciao